Qui in Nagoya sono due grandi fanci di Italia. Puoi dire il tuo nome? Shou, sono Shou. E tu? Sono Masayo. Hai seguito l'Italia dell'Italia? Sapporo, Osaka e Nagoya. E la prossima settimana... Yokohama. E perché sei così fanci dell'Italia? Perché sono molto interessanti, divertenti e bello. Quindi siamo molto... ...fascinati dall'Italia dell'Italia. Il tuo spazio favorito? Sì. È una domanda difficoltà. Tutti i nostri spazi. È il primo anno che hai seguito l'Italia? No. In realtà, tre anni fa. Oggi siamo molto interessati nell'Italia dell'Italia. Dopo 2004, 2004. Quindi è stato 15 anni. Ma siamo in amore con l'Italia dell'Italia. Tre anni fa. Tre anni fa. E ti piace anche l'Italia? Come il paio? Sì. Io sono andato in Italia. Troppo. Roma e Milano. Ma il manager del team ha detto... Sì. 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 Ciao. Ciao! Sì.